Il capo cannoniere di Italia 90, il palermitano Salvatore Schillaci, redice della partecipazione, quale ospite d'onore all'evento Soccer City organizzato con successo da Paolo Canciani, è stato accolto calorosamente dai corregionali nonché suoi fans presso la sede dell'Associazione Trapanesi di Toronto. Di lui gli sportivi che lo hanno seguito nella sua brillante carriera sanno tutto. Soprannominato Totò lo si ricorda principalmente per le sue prodezze, per i suoi gol a Italia 90. Competizione chiusa dalla Nazionale Azzurra al terzo posto dove si aggiudicò anche il titolo di capo cannoniere e di miglior giocatore della competizione. Nello stesso anno arrivo secondo nella classifica del pallone d'oro alle spalle del tedesco Lothar Matthaus. Ciao, sono Totò Schillaci, oggi mi trovo in questa comunità italiana, soprattutto siciliani. Sono molto contento di stare qui con voi e soprattutto di avere passato un'ora di questo momento fantastico. Per me è stato un grande onore di avere trascorso dei momenti fantastici e soprattutto di ricordarmi che ci sono molti meridionali, soprattutto che vanno all'estero e che da nulla si creano qualcosa di importante, di un futuro migliore. Quindi è da ammirare, sono orgoglioso di essere siciliano e quindi auguro a tutte queste persone che possono raggiungere obiettivi importanti. La sensazione è sempre fantastica, soprattutto in un paese così importante, incontrare gli italiani e manifestare i ricordi, i pensieri, soprattutto nel mondo del calcio e soprattutto vedere gente che viene, chi da Grigento, chi da Cartanissetta, chi da Palermo e parlare all'estero italiano è una bella cosa. L'incontro, in onore del famoso calciatore, è stato organizzato per il patrocinio di Antoniavola, Dominic Rende e Dominic Campione della Confederazione dei Siciliani del Nord America che gli ha consegnato un medaglione al ricordo dell'evento. Ok, stasera siamo qui all'ATEM, l'associazione trapanese, la quale Dominic Rende è il presidente. Devo ringraziare il presidente e tutto il comitato perché ci ha ospitato. Abbiamo avuto Totò, il grande calciatore, che ci ha fatto onore con la sua presenza qui all'ATEM Club. Naturalmente per noi siciliani è stato un grande onore, un grande piacere averlo intrattenuto per un paese. Eppure anch'io voglio ringraziare l'opportunità di avere qui con noi Totò Schillaci, un grandissimo, un grande Schillaci della Nazionale, della Juventus. E voglio ringraziare pure la CSNA, che io faccio parte, con il presidente, ex presidente, Antri Avola, il vice chair, domani campione e myself. Io certo abbiamo fatto una bellissima serata per i trapanesi, per i parlamentari e tutti i siciliani che sono qui, fanno parte del nostro club. Per i partecipanti all'incontro è stata un'occasione unica per conversare con Schillaci e fare foto ricordo con il protagonista delle Notti Magiche di Italia 90. Totò Schillaci ritornerà probabilmente a Toronto il prossimo mese di marzo per una partita con le vecchie glorie.